ciao a tutti ragazzi oggi noi apriamo l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto però noi dopo questo pacchetto dobbiamo aspettare un mese e poi noi facciamo un sono video di giochi quindi come giocare come come la palla no come un mese sei mesi dobbiamo aspettare poi possiamo fare il video di qui in come si chiama noi facciamo un video di come roblox così e quindi questa qui è la finalissima pacchetto top player o super top player dai 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 per favore per favore super top player per favore è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo quindi troppo l'ultimo è troppo vediamo se c'è un portiere si dica no no portiere dico qui 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 aiuto o a date lì in gioco e si dice h8 e qui 2 1 8 g h 2 6 l qui qui aiuto quindi facciamo un portiere oh mike maniam ma mike maniam 90 portiere Atalanta Marte in the run Bello Bello Oh mio Dio Ma guardate questo Ragazzi Che cos'è questo Guardate questo Magi 4 Ma che cosa Ma wow Wow Guardate raga Guardate io lo leggo Danilo, Quadrato, Zaccaria e Locatelli Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini Federico di Francesco 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 Ok quindi è l'ultimo L'ultimo pacchetto No, dico no l'ultimo pacchetto È l'ultimo pacchetto Però non è l'ultimo, è l'ultima carta Oh mio Dio Oh mio Dio That's one Marine Per l'ultimo pacchetto Però 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 Guardate Guardate Intoccabile anche Due in un pacchetto Come l'altra volta L'abbiamo presso Un idolo Un idolo Terra Un altro poi Un diamante Questa volta è più meglio Questa volta era più meglio E cosa quella fa Ehm Un toccabile Anche questo Un toccabile Ehm Danilo Quadrado Locatelli e Zaccaria Guardate questa carta Guardate Magic 4 Tristar Tristar 3 Wow E poi anche i pellegrini Della Roma Che sta però Nella quinta Però Ah Guardate Questa immagine qua Trovo bella Guardate Questa anche Questa Guardate Capitano Guardate È il primo capitano 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 Pellegrini Bello Roma 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 Però anche Empoli Nuova film Aspetta Io dico Anche Mike Maynham Molto Bello Moltissimo Bravo Ciao Mio Bello Guardate Portiere Questo Qui È il Io provo Perché Abbiamo preso Per adesso No Dico Per adesso Per oggi Bel pacchetto Bel pacchetto Guarda Guarda Vedete Vedete la mia faccia E però Il primo Super 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 È questo Quadrato Zaccaria Danilo Luca Luca E E Ce l'abbiamo Anche Un Difensore No ma Che Difensore Un Mister Che abbiamo Preso Wow Wow Guardate 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 Anche qui Si Ha detto Difensore Barretta E Centrocampista Guardate Qui Aspetta Non c'è Un difensore Aspetta Aspetta Prima Un difensore Non c'era No Quindi Però Wow 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 Boom Quindi Questo qui È l'ultimo Pacchetto Ciao 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 Ciao